La nostra visione Lead the Charge è ciò che ci guida. Ci spingiamo sempre oltre l'immaginazione per creare innovazione. Sono Alessandro Bernetti, testa ufficiale energica. Il mio è un lavoro di grande responsabilità. Testare ogni giorno un moto ad elevate performance, garantendo la massima sicurezza per i nostri clienti. Nel nostro lavoro la sicurezza è fondamentale, a partire da ciò che indossiamo. Per questo Wurt Modif è il partner ideale. Ogni giorno lavoro per creare un mondo all'altezza delle nostre aspettative. Un mondo sostenibile, tecnologico, innovativo. Un mondo full electric.